Sapevi che in Mortal Kombat 11 uno dei personaggi speciali aggiunti al roster è Rambo? Il celebre soldato interpretato da Sylvester Stallone possiede una mossa che gli consente di infilzare uno scarafaggio da terra e mangiarselo per recuperare un po' di vita. Se ne abusiamo troppo però, ad un certo punto il poverino non ce la farà più e gli succederà questo. Mickey Bear Grylls, dopo tutto.